Archiviate le vacanze, tornano in agenda tutti i temi rimasti in sospeso da prima dell'estate. E va detto anche come il confronto estivo non abbia contribuito a migliorare l'atmosfera in cui svolgere l'impegno della politica. Lo dice Vittorio Messina, presidente della Confesercenti Sicilia. Se guardiamo da vicino l'agenda e il confronto locale, ci sembra che sia decisamente il caso di ripristinare condizioni di migliore agibilità per discutere di proposte politiche degne di questo nome dal punto di vista del metodo e del merito. Se poi osserviamo i primi punti, comprendiamo bene che si stanno per porre le premesse per la città del futuro e dovremmo tutti sentirci ancora più sollecitati ad affrontare responsabilmente una situazione che potrebbe determinare trasformazioni profonde nella struttura, nella composizione, nella cultura della città. Il momento che stiamo vivendo, aggiunge Vittorio Messina, deve produrre un supplemento di dibattito culturale. Non sarebbe difficile riportare l'esito di inchieste, interviste, dichiarazioni, interventi che quasi quotidianamente tentano di tratturre in cifre gli apprezzamenti o le lamentele, le attese o le paure dei cittadini interpellati. È un metodo utile soprattutto per chi ha il compito di amministrare la città. La nostra città sostiene ancora il Presidente di Confesercenti Sicilia e ricca di iniziative, di gruppi attivi, dediti a molteplici interessi, politici, culturali, artistici, sportivi, numerose associazioni di volontariato rinnovano nei vari settori la storia della solidarietà che ci ha sempre contraddistinti. Nonostante, inoltre, la pesantezza della condizione economica e civile, la città non sembra sentire sufficientemente l'impegno a fare comunità, a porre le premesse per dare un volto alla città di domani. Lo strumento in grado di costruire la città è la politica e non si può fare a meno della politica. Il fatto stesso di essere uomini e donne in questo tempo comporta una responsabilità politica. Rinunciare ad essa, conclude Messina, significa rinunciare ad una componente fondamentale. Un messaggio chiaro, quello di Vittorio Messina. A proposito di politica, la politica che conosciamo, insomma, il discorso forse andrebbe però approfondito meglio.